Il Senato degli Stati Uniti ha bocciato l'olio d'otto Keystone XL almeno per ora per un solo voto e i democratici che ancora controllano il Senato fino a gennaio hanno bloccato la legislazione che avrebbe approvato la costruzione del Keystone XL progettato per trasportare il petrolio greggio estratto dalle sabbie bituminose dell'Alberta in Canada fino al Golfo del Messico in Texas. Il progetto è assai controverso per le temute ricadute a livello ambientale in attesa del Via Libera da sei anni ma era stato recentemente approvato dalla Camera Maggioranza Repubblicana. La decisione rappresenta una vittoria probabilmente solo momentanea per il movimento ambientalista convinto che l'olio d'otto peggiorerebbe anche le condizioni del cambiamento climatico perché produrrebbe molte più emissioni di diossido di carbonio rispetto a vari altri tipi di greggio. Alla notizia del risultato del voto in aula nella zona riservata al pubblico sono eccheggiati i canti di gioia del Tribù Su, contrari al passaggio del Keystone XL nelle loro riserve. I visi pali di repubblicani non intendono sottrarre l'ascia di guerra, come spiega Mitch McConnell, prossimo leader della maggioranza repubblicana in Senato. La questione del Keystone XL sarà una delle priorità dell'agenda del nuovo congresso. Sono fiducioso che la legge verrà approvata e saremo in grado di sottoporla alla firma del Presidente.